Ciao, sono Anna, ho 27 anni, lavoro alla GAM di Torino e voglio sostenere Aung San Suu Kyi, una donna comunque piccola ma che con grande determinazione ha sostenuto e combattuto per il suo paese e ancora continua in questa lotta e il mio augurio è che nelle elezioni del primo aprile portino ad un reale cambiamento.